L'Abruzzo manca al primo appuntamento con i fondi del piano di ripresa e resilienza. Su 149 progetti finanziati a livello nazionale, l'Abruzzo ha preso zero. La Regione Abruzzo, con il suo assessore imprudente e con tutta la struttura, non è riuscita a presentare alcun progetto per la rete irrigola e soprattutto per sostenere con forza l'agricoltura abruzzese. Un flop assolutamente grave per la Giunta Marsilio, ma soprattutto per gli abruzzesi e la sua agricoltura.